Il sindaco di Foggia Franco Landelle e l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Foggia Claudia Lioia hanno presenziato al primo giorno di scuola la scuola media Giovanni Bovio, l'istituto secondario di primo grado più grande di Puglia per numero di studenti. Come dico sempre ai ragazzi, ha detto il primo cittadino, voi non siete i cittadini di domani ma i cittadini di oggi. Avete dei diritti e dei doveri e per conoscerli i luoghi più adatti sono la famiglia e la scuola. Dai genitori e dai docenti imparerete ad essere più responsabili, imparerete a capire, come diceva un grande presidente degli Stati Uniti come John Fitzgerald Kennedy, non solo quello che voi potete chiedere a chi amministra la vostra città e la vostra nazione, ha concluso Landella, ma anche che cosa voi potete e dovete dare alla vostra città e alla vostra nazione.